La tua ambizione è stata notata. Dove vorresti arrivare? A Roma. E? A una posizione. Al potere. Che porta a... Al benessere. A una bella famiglia. A una grande villa in campagna. Dove troveresti? La fine dei sacrifici. Un giorno senza morte. La pace. Tutto questo per la pace. Capoe. Capoe. La pace. Non so neanche cosa chiedere. Parla con il cuore. Io non riesco a conciliare tutto questo con il mondo che conosco. Lo hai visto con i tuoi occhi e ancora hai dei dubbi. Immagina i dubbi di coloro che non hanno visto. Che dovrebbero fare? Di cosa hai paura? Di avere torto. Di scommettere la mia eternità. Allora segui il padre mio. Quando sei morto io ero presente. Ho aiutato. Lo so. Che cosa stai cercando, Clavio? Certezze? Pace? Un giorno senza morte. Pace. No, no. Sveglia! Fratelli! Fratelli, sveglia! Fratelli, svegliatevi! Che succede? Se n'è andato! Cosa? Sì, Yeshua, se n'è andato! Yeshua! Yeshua! Se n'è andato! Quando lo avete visto? Fratelli, alzatevi! Yeshua! Fratelli, qua! Giovanni, vieni! Yeshua! Dove se n'è andato! Ma dove è andato? Yeshua! 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 È andato via! Non c'è più! Yeshua! Fratelli! Fratelli! Sto andando a preparare un posto per voi. Andate in tutto il mondo a predicare il Vangelo. Ad ogni creatura. Mi sarete testimoni a Gerusalemme. In tutta la Giudea e la Samaria, fino ai confini della Terra. Sappiate che sarò sempre con voi. Sempre! Signore! Signore! Grazie a tutti.